Un unico voco a tutti, sono su FIFA14, sono qui oggi per mostrarvi un po' la mia formazione dell'Ultimate Questo video probabilmente lo farò pubblicare sul canale dei GameGrabbers, così un po' per far conoscere la mia persona alla nostra community di GameGrabbers Ok, in questo video oggi vedrete appunto la mia formazione e andremo a fare una bella partita online Vi ripeto ragazzi, io non sono molto molto brava, anzi, diciamo, gioco un po' per divertimento, ecco, però come vedete c'ho comunque la formazione Oro E devo andare a applicare un contratto, ok, applichiamo un bel contratto a Cavani Sono riuscita a comprare Cavani, quindi ne vado molto fiera di questa cosa Vabbè, questa è la mia formazione, come vedete l'intesa è praticamente schifosissima la mia intesa Però, bene o male, la mia squadra è abbastanza forte, adesso non so come si levi il fatto quando si applica un contratto che vi fa vedere un'altra cosa Comunque, questa è la mia formazione Questa è la mia formazione, l'intesa non è al massimo Ultimamente non sto puntando tanto all'intesa al massimo Ma sto più puntando a prendere i giocatori, a vendere, comprare, vendere, comprare Cosa che mi piace molto fare, cioè vendere un giocatore, rinnovarlo, comprarlo Quindi prossimamente venderò ovviamente Cavani appena riesco a piazzarlo a qualche credito altino Quindi è questo, diciamo, quello che mi diverte di più sull'ultimate Vendere, comprare, vendere, comprare, è divertentissimo Comunque, vedo che non trova nessun avversario Quindi, mannaggia, mannaggia, mannaggia Comunque, come dicevo, probabilmente questo video andrà sul canale dei GameGrabbers Non ne sono sicura, adesso vediamo Il nostro avversario utilizza la nostra testa formazione a un giocatore raro Oh mio Dio Ok, però diciamo un tipo un terzino Non capisco la tua formazione Però, in questo video, noi possiamo dimostrare Che l'intesa non è una cosa che serve al 100% Ma noi l'intesa, ma noi l'intesa non ci serve più di tanto Perché la squadra può farcela anche senza... Non è vero Ok Così, così, così Yeah, ok Comunque, dice Dornando al discorso che questo video probabilmente finirà sul canale della nostra nuova community Casomai lo caricassi sul... Se dovesse succedere che non posso pubblicarlo sul nostro canale della community Probabilmente lo pubblicherò sul mio E così vi farò presente la community Mannaggia, mannaggia, mannaggia Ok Perché è proprio FIFA, voi vi direte? Perché è un qualcosa di diverso che non avete neanche visto sul... Nel senso, non che non avete visto FIFA sul mio canale Nel senso che non avete visto la mia formazione dell'ultimate Quindi inviterò anche i miei iscritti ad andarlo a vedere sul canale dei GamesGrabber Oddio, 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 che stop Stop troppo lungo In difesa, in difesa ragazzi, in difesa Su Grandissimi, grandissimi Vedi, lo vedi, l'ha visto? Niente, non si è riuscito a crossare velocemente Attenzione, ecco, 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 ecco Mannaggia, abbiamo preso gol Non fa nulla, non fa nulla Tranquilli Non è successo nulla Non mi guardare storto perché è colpa tua No Comunque non è successo nulla Primo gol, prima azione Come al solito Vabbè Ok Grandissima azione Complimenti al nostro avversario Io non demordo, non mi incazzo Perché, come sapete, sono una persona molto lineare Non è vero, mi incazzo facilmente Però, però niente Però niente Io provo a fare sta cosa Provo a fare sta cosa Provo a incazzo al mio esterno Ok L'esterno ha preso la palla Ok, no Ha difeso bene Ha difeso bene Ha difeso bene Adesso tocca a me Difendere La sua squadra, devo dire, che non è che abbia dei bomber Però Bellissima difesa Ottima, ottima, ottima difesa Grandissima Ok Ho rubato palla Scusate pure per la voce raffreddata Probabilmente vedrete questo video Con Il quale avrò degli occhi Tipo Vampir Boom Falchiulo Apparato Ok Avrò degli occhi tipo Sembrerò un vampiro Faccia bianca Però sono malata Diciamo che sono un po' Come si posso dire Ho un po' di sfortuna Oddio Con Con Ok Ok Do Mi hai intracciato Mi hai intracciato Ok Sono un po' sfortunata Con l'inverno Cioè io mi ammalo Molto molto facilmente Quindi Per quello mi vedrete Un attimino Tutta tipo raffreddata Ok Nostra Perfetto E quindi Per quello che Ho un viso Molto bianco Ok Allora non c'è nessuno Che si sprappone Vai da lui Ok Ok Vai in mezzo Qualcuno in mezzo Qualcuno in mezzo A ricevere questo cross Vai Ibarbo Yeah Recuperato subito Con Ibarbo Che sto amando Come calciatore Più che Cioè Non potrebbe non essere Il mio bomber Di questa mia ultimate Cioè Ibarbo Ragazzi Ibarbo Che consiglio a tutti Di prendere Perché costa pochissimo E ci dà tantissimo Ok Si riparte Vai Ok Inneschiamo di nuovo Ibarbo 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 Doppietta Recupero Con Doppietta Cioè Fantastico Yeah Ok Siamo 2-1 per noi Fantastico Fantastico Siamo stati Dei bomber Assurdi Grandissimi Comunque Se nei commenti Vi va di Consigliarmi Qualche altro giocatore Ho abbastanza crediti Perché ho fatto Tanti tornei Diciamo che mi diverte Un sacco FIFA Inneschiamo anche Cavani Inneschiamo anche Cavani 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 Ah Niente Comunque Se avete voglia Ecco Di consigliarmi Di consigliarmi Qualche giocatore Da poter comprare Oddio Oddio Ok 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 Vai 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 Grandissimo No Lì ho volevo Ok è sbagliato Io perché pensavo Che sarebbe uscita Quindi Ho schiacciato Sbaglio il tasto Se avete giocatori Da consigliarmi Non lo so Fate voi Non lo so Oddio Aspetta Adesso mi devo Attivino concentrare Perché non vorrei Di fare gol Ok Ho fatto un tiro Sbagliamente Ok Quindi se avete giocatori Pure forti Dici guarda Provali Che non costano molto Ovviamente non voglio Che mi consigliate tipo Prendi i ballotelli È foltissimo Grazie Cioè ho già provato A prenderlo Me l'ha insoffiato Sui 9000 crediti In un'asta Quindi Già sto rosicando di mio Perché non sono riuscita A prendere Boom Niente Oddio Sono riuscita a prendere I barbo Cioè Ballotelli I barbo I barbo Niente Miracolo Miracolo Mamma mia Emozioni Emozioni Su questo stadio Che non so neanche quale sia Tante emozioni Tante emozioni Oggi per questa partita Tra La mia squadra Che si chiama Il GRG Super Team No Power Team Mi ricordo Comunque Indischiamo i barbo I barbo Niente Nainggolan 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 Dalla distanza Nainggolan Wow Bel tiro Bel tiro Grande Grande Bel tiro Dai Possiamo farcela Possiamo tenere la supremazia Territoriale del posto E di tutto quello che Oddio lag No No Non è vero Ok No 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 Grandissimo Ok Spazza Alla ricerca di Nainggolan I barbo I barbo I barbo I barbo Niente C'è il portiere Fermati Se no ti si consuma tutta La barretta dell'energia E poi io rimango Rimango senza di te Senza il mio Bomber Ok vai Abate 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 il cacchio Ogni tanto mi faccio queste cazzate No Ogni tanto mi faccio queste cazzate Però molto spesso si rivelano Delle cose assurde Che l'avversario non si aspetta Sto scherzando Non è vero Molto spesso faccio queste cazzate E gli do palla E mi becco i contropiedi Lag Monster lag 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 No No ragazzi No 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 Sto vingendo No No Cos'è sto lag Cioè lui sta usando i cheat Su FIFA Per farmi laggare il gioco Così poi da poter andare a segnare In maniera scorretta Vedi Uso i cheat Uso i cheat No sto scherzando Comunque lagga troppo Lagga troppo E non riesco a capire Come Come fare Sì Ok Il tuo lag non è servito Oddio laggissimo Ok Ricordo che gioco su pc Ricordo che gioco su pc Monster lag Vabbè l'ado avanti Non lo so come Però sta laggando troppo Sta laggando troppo Amico Chiudi le finestre dei siti sconci Amico Chiudi i siti sconci Ok L'ha chiusi Mi aveva ascoltata? Ma ne dubito Dai Mettile in mezzo Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Garcia! Garcia! Niente Non si capisce un cavolo ragazzi Lagga troppo Lagga troppo Ok ha smesso? Sembra di sì? Ok No Non ha smesso Ok Comunque Che dire Abbiamo recuperato Da un primo tempo Cioè io mi aspettavo L'attimo di dovermela sudare Poi nel secondo tempo Per Rimettermi in carreggiata Invece Doppietta di Armero Cioè ho confuso Armero con i barbo Sono una persona pessima Sono una persona No sono uguali Cioè Non è vero Vabbè ho confuso I miei due Aggraggiatori Sono una persona pessima Vediamo se abbiamo Delle sostituzioni da fare Io sostituerei No niente Niente Lascio tutto così Perché Va bene Così la squadra Ha dato il massimo Quindi Sperando di non laggare più Ok Si riparte Il secondo tempo Secondo tempo Ok Perfetto Armero Armero Che ho confuso con i barbo Ricordo Che poi hanno pure Più o meno lo stesso numero Cioè È colpa vostra Se vi confondo No Wow 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 Niente 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 Ok Abbiamo recuperato Abbiamo recuperato I barbo I barbo Sulla linea Crossa Alla ricerca di Cavani Stack di Cavani Che non ha senso Tirare di testa da lì Vero lo sai Cavani Adesso lo sai Se non lo sapevi Ok Si riparte Si riparte Dobbiamo Ok Fantastico Pichè ragazzi Pichè Parlando di Pichè L'ho preso a un'asta Non a molto Cioè come avete potuto capire Io faccio le aste A pochissimo Per Oh 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 Attenzione 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 Oh 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 Grandissimo Armero Recupero difensivo Cerca Giordia Cioè ragazzi Ho fatto le a Tutti questi giocatori Che vedete Sono aste Che ho fatto Dove sono riuscita A prenderli Più o meno Sui 7000 Tranne Cavani Che l'avrò pagato Mi pare 9000 8000 Una cosa del genere Comunque Per il resto Il mio squadrone Qui Pronto Oh 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 Bellissima Comunque ultimamente Sto cercando di fare Oh Vai Cavani Vai Cavani 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 Dal grande recupero Del no Nel primo tempo Ecco E quindi Si ritrova Un attimino Vedete Sta un attimino Moscio Poverino Però io Essendo una persona Abbastanza cattiva No sto scherzando Continua di infierire Perché ragazzi È un ultimate Cioè è una partita Di campionato Io ho recuperato E quindi Meritiamo Boom Di continuare A segnare In questa partita Di stagione Dell'ultimate Ok Fantastico 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 E Amico Dai Dai Deliziaci Con i tuoi giochetti Deliziaci Con i tuoi tiri Muoviti Non fare La persona Che non Non ha fair play Perché non hai fair play Se Non giochi Solo perché sei svantaggio Ok E io continuo a segnare Io continuo a segnare Io continuo a segnare No dai ragazzi Vabbè E niente Diciamo Questa è una sorta Di video Che potrete vedere Anche sul mio canale Quindi Se Questo video Ripeto Non lo so Non ne sono sicura Se dovesse finire Sul canale Della nostra Nuova community Che si tratta Dei games Grabbers Potrete vederlo lì Che insomma E lo caricherò Sul mio canale Non lo so Comunque In questo video Vi ho dimostrato Che comunque Ci sono persone Abbastanza scorrette Anche su questo FIFA 14 A me mi è capitato Già In una cosa del genere Su FIFA 13 Quest'anno Le persone Quando sono in svantaggio E quando Ti vedono Che sei un attimino Più Più entusiasta Che giochi Con più Che sei più aggressiva Ecco aggressivo Tendono comunque A fare così Quando vanno sotto Prendono E lasciano il gioco In stand by Così poi Da farti rompere Le palle Perché non gioca E Ti viene qualsiasi La voglia Ecco di leftare Cosa che io Non faccio mai Perché non è giusto Che debba perdere Crediti Per lasciarli A una persona Scorretta come te Quindi ragazzi Questo video Spero che comunque Vi sia piaciuto E niente Passate anche sul mio canale Se volete vedere Video su altri giochi Code Minecraft E Eccetera E al prossimo video Ciao a tutti